Ancora il serbo, traverso il mezzo a cercare, KEN! Dopo sei mesi, torna il gol, Moise KEN attacca il primo palo in maniera perfetta, otto minuti sul cronometro, Juventus uno, è un gol in zero, ha segnato Moise KEN! Grazie a tutti! La Juventus è in vantaggio, Moise KEN, eccolo qui, il timbro di Moise! Trappiogli la strappa via, lungo il pallone a cercare, KEN, va la Juventus, KEN il pallonetto di Moise! La Juventus è in vantaggio, Moise KEN! Il pallone all'argentino, KEN era libero, che peccato, il tocco per McKennie, McKennie attraverso il rimetto verso KEN! La Juventus è in vantaggio, otto minuti sul cronometro, azione meravigliosa, Moise KEN! Tositi in mezzo verso Moise KEN che ci arriva! La Juventus è in vantaggio, Moise KEN sinistra all'angolino al 32esimo minuto, la Juventus è avanti con Moise KEN! Moise KEN! La sblocca ancora lui, come all'andata! 1-0 Juventus! Grazie a tutti.